e benvenuti ad un nuovo appuntamento con tutto rugby in tv stasera abbiamo un gradito ritorno un amico raffaele scognamiglio ciao raffaele buonasera tu ovviamente sei un raggbista sei stato un pillone quindi sei un uomo di mischia sai che significa la spinta insomma le testate si pigliano parecchie testate si danno pure hai giocato tanti anni tra serie a e serie b sei stato con la partenove sei stato col cus napoli oggi amatori hai giocato a cava hai giocato a torre del greco poi sei stato un sei stato un allenatore hai allenato tra le tante anche la seconda squadra della partenove e vanti una finale serie b a rovigo contro il frassinelle all'epoca c'è come allenatore c'era il nostro amico corrado lanna è estremo il frassinelle scusami se ti interrompo questo c'era c'era uno dei migliori allenatori attualmente italiani che e facciamolo sono niente praticamente il buon adesso mi sfugge un attimo solo dovrebbe essere brunello ecco adesso non è venuto brunello che è un ottimo allenatore della della dell'eccellenza che salutiamo ovviamente certamente allora veniamo subito a noi innanzitutto siamo stati in quarantena penso una quarantena l'hai fatta come è andata sta quarantena e diciamo che un'esperienza spero non che non si ripeta perché chiaramente tutte le attività comprese quelle sportive hanno hanno risentito notevolmente di questo di questo questo fermo di tutte le cose ma era necessario era indispensabile per nell'interesse diciamo di tutte le comunità infatti stiamo vedendo in altri paesi che hanno un po per ritardo un po perché non hanno avuto la capacità come l'italia e come altri paesi europei di stopparla subito ma stanno in in grave difficoltà in grave difficoltà ovviamente l'ho già anticipato tu il rugby almeno a livello italiano ha sospeso definitivamente la stagione sportiva 2019 2020 da quello che si sa non verranno stabiliti i campioni d'italia le posizioni restano congelate credo innanzitutto data la situazione siamo tutti d'accordo che era l'idea l'unica fattibile almeno in quel momento io penso di sì anche perché in questo momento la la priorità fortunatamente diciamo ecco è passato in secondo piano però comunque la priorità era assolutamente cercare di salvaguardare le vite umane e quindi al di là di qualsiasi campionato al di là di qualsiasi diciamo presunta o vera vittoria mi sembra giusto che la che la che la federazione abbia preso questa decisione siamo però ripartiti nel senso in che modo siamo ripartiti la federazione ha dato l'ok tutti i club hanno potuto riaprire le strutture siamo ripartiti con gli allenamenti abbiamo cominciato con gli allenamenti individuali prima con i ragazzini proprio piccolissimi adesso tutti i club gli adulti le prime squadre addirittura gli old sono rientrati in campo sempre per allenarsi un protocollo non molto facile insomma noi ce lo siamo un po letto un po studiato le regole sono tante d'altronde voglio dire si combatti ancora contro la pandemia però crea diverse difficoltà nella sua attuazione sicuramente spogliatoi chiusi distanza di sicurezza che varia da 2 a 10 metri a seconda della posizione in campo passaggio palla di nuovo consentito ma bisogna garantire che il pallone sia sempre perfettamente pulito ed igienizzato contatti ancora da evitare placaggi ancora da evitare insomma è complicata la situazione diciamo che per uno sport di contatto per quanto riguarda il gioco diciamo con la palla vuoto voglio dire grossi problemi non dovrebbero essercene problema serio che il rugby è uno sport di contatto di forte contatto fondamentale quello e quindi sia nelle nei punti d'incontro e soprattutto poi nelle fasi statiche mischia tush e quant'altro mu dinamica rac e quant'altro è chiaro che siamo diciamo stiamo in un momento particolare in cui si devono chiarire certe situazioni per dare poi il nulla a poter proseguire la paura un po' diciamolo soprattutto da noi al sud è quello che i due mesi e mezzo e tre mesi di stop la finalizzazione l'avvicinare i neofiti al gioco del rugby praticamente questi tre mesi si sono persi questo per molti club del sud soprattutto potrebbe essere un problema abbastanza gravoso io io sono d'accordo che probabilmente i neofiti effettivamente potrebbero avere un qualche dubbio prima di mettere diciamo più tentati verso mettiamola così altri sport va il problema non tanto questo io credo fondamentalmente invece un'altra cosa che esiste in tutti gli sport a meno a livello giovanile diciamo la percentuale di abbandoni a seguito di anni di di giovanile ecco i psicologi dello sport chiamano drop out ecco il problema fondamentale in questo momento è il drop out dei ragazzi non dico evoluti che però hanno già un po di esperienza se prima stavamo sul 40 per cento quando finivano i settori giovanili ecco adesso c'è una c'è veramente una caduta libera siamo a percentuali di abbandono che superano il 60 70 per cento allora questo è il momento in cui purtroppo gli educatori gli allenatori devono farsi in quattro devono usare tutti gli strumenti a disposizione compresi gli strumenti informatici per poter mettere un filo conduttore con tutti i ragazzi per la propria ognuno per la propria categoria di appartenenza per evitare che i ragazzi abbandonino a seguito di questa grave pandemia noi lo diciamo tanto spesso giustamente lo stai dicendo anche tu bisogna poter coinvolgere i ragazzi bisogna coinvolgere anche le famiglie perché ricordiamolo il rugby è unione e famiglia e amicizia quindi anche questo è un momento positivo certamente finalmente con la ripresa con il poter riaprire le strutture questo comincia ad essere torna ad essere un vantaggio per i club finalmente ti posso ospitare sulla mia struttura assolutamente sì diciamo che le famiglie sono un un cardine fondamentale all'interno della struttura anzi devono essere coinvolti per potersi per per poter permettere intanto l'associazionismo più quando più ampio è possibile soprattutto per dare una manforte ai ragazzi in questo momento di difficoltà e questo assolutamente in questo devo dire verità le società che hanno una che hanno una struttura fissa e inemovibile parlo dell'amatori parlo del torre del greco chiaramente parlo della partenope parlo del santa maria capovetere società strutturate sul territorio che hanno a disposizione un campo per tutte le ore della giornata ecco un minimo di vantaggio ce l'hanno rispetto alle altre società che possono disporre di alcune strutture solo per alcuni giorni e parlo dei processi di protocollo che tu accennavi prima è chiaro che avendo a disposizione un campo per tutta la durata della giornata e mi posso permettere di gestirlo anche dal punto di vista di numeri di sanificazione in modo opportuno ricordiamo che il il problema fondamentale che giustamente accennavi anche tu combattiamo spesso io dico al sud per non dire solo e soltanto la campagna con strutture fatiscenti strutture dove manca ancora il campo non tutte le strutture dalle parti nostre hanno ancora il manto erboso anche quello questa ripartenza ha costretto ancora a fermarsi assolutamente in questo devo dire la verità ci aiuto ancora le società che sono riuscite con mezzi proprio con me con aiuti delle federazioni sportive della nostra federazione sportiva fir e anche del coni diciamo che hanno sono riusciti a fare un campo in sintetico ecco il campo in sintetico aiuterà moltissimo al per il processo di sanificazione all'interno della strutture di tutto il rispetto a chiaramente ai campi polverosi che noi spesso troviamo i famosi campi di patate di cui di cui noi abbiamo usufruito dove quelle le pietre quelle piccole ti entravano nel ginocchio non le vedevi più però faceva male cane non mi posso mai dimenticare con tutto il rispetto una persona che poi rispetto purtroppo non c'è più tonio margiotta a valleirne riuscì a fare un campo da rugby in una ex cava in una ex cava di pietre e noi abbiamo giocato in quel campo e si giocava e si giocava il grande tonio ha fatto bene a ricordarli a salutarlo purtroppo è già qualche anno che non c'è più ma è una persona che ha creduto in questo sport prima come giocatore poi come allenatore e ci ha creduto fino alla fine possiamo dirlo tranquillamente un caro saluto a tonio e alla sua famiglia raffè tu hai giocato tanti anni sono stati i tempi tuoi il rugby oggi è cambiato di quanto è cambiato secondo te tantissimo chiaro la velocità diciamo a un a una predominanza direi stratosferica non so se io con la mia mole soprattutto sarei riuscito a tenere questi ritmi probabilmente o sarei stato costretto ad adeguarmi oppure avrei dovuto mollare un po prima visto che ho lasciato a 40 anni e quindi diciamo la velocità sicuramente le regole sicuramente hanno aiutato la la spettacolarizzazione dello sport sicuramente una forma nuova certo però aumentando la velocità sono aumentate anche i traumi e non a caso la federazione internazionale ha preso prima con la concussion e ancora prima con altri provvedimenti soprattutto da parte arbitrale un tentativo di ridurre i traumi sportivi in questo senso con il trauma cranico non si scherza qualcuno proprio nelle scorse puntate parlavamo con l'amico chicco fusco ne abbiamo parlato anche col nostro amico franco salierno il professore francesco salierno che salutiamo oggi purtroppo non è potuto essere presente ma sarà presente nelle prossime puntate questa velocità questa spettacolarità forse in un certo senso però il rugby il rugby puro lo sta tra virgolette lo metto un po rinnegato o tantomeno cambiamo si ipotizzava con chicco forse che il ruolo del 9 del 10 cominciano un po a diminuire di importanza forse con tutta questa spettacolarità diciamo si dovrebbe usare tanti schemi tante cose forse famose cervelle se sembra adoperato il 9 e il 10 hanno sempre una portata una figura fondamentale importanza fondamentale voglio dire non non staturiamo questa cosa certo il numero spesso il 9 e il 10 per esempio si alternano nel ruolo proprio per la velocità esatto voglio dire molto spesso addirittura all'estremo le guida la seconda linea d'attacco oppure l'apertura stessa va nella seconda linea d'attacco e nella prima linea d'attacco va all'estremo che si è inserito quindi voglio dire attenzione io sarei cauto con questa dal punto di vista tecnico è chiaro sarei cauto con questa diciamo diminuzio del ruolo dei mediani che rimane sempre fondamentale sempre il cervello della squadra rimane soprattutto il mediano con le sue finte con i suoi passaggi la velocità del passaggio rimane fondamentale ma pure dell'apertura voglio dire non solo del mediano diciamo che dobbiamo pensarci è chiaro che a noi serve la visibilità serve la televisione quindi più spettacolarizziamo questo sport diciamocelo chiaramente ognuno tira l'acqua al suo mulino è chiaro che fa più piacere a volte si pensa anche questo forse sta un po' cambiando il pubblico di rugby è stato sempre un pubblico di esperti comunque qualcuno che almeno in tempi passati ha praticato il campo o come allenatore o come giocatore quindi è chiaro che adesso si cerca un pubblico più vasto forse i cosiddetti neofiti i poco esperti 7 8 10 fasi dove noi sappiamo che ti fa il cosiddetto per conquistare quel centimetro forse posso capire che a livello di media quindi tv piuttosto che può diventare un po' non piacevole da vedere tutte quelle fasi mettiamola così io non lo so uno dei punti fondamentali io che non abbatterei è proprio il fatto della multifase proprio la multifase rende la difesa più debole e permette alla squadra che ha il possesso del pallone di avanzare e quindi di giocare nel campo avversario e quindi di portare delle azioni spettacolari che il pubblico potrebbe gradire sicuramente voglio dire al di là ripeto al di là del fatto che è chiaro che c'è una certa differenza fra le difese arcigne di oggi che stanno in una linea che è una difesa chiaramente derivata dal rugby a 13 cosiddetto rugby a 13 o meglio rugby league che ha praticamente bloccato gli attacchi e quindi tranne alcune squadre cito una squadra a casa la nuova zelanda nonostante abbia perso il campionato del mondo per il resto assolutamente non ci sono squadre che non riescono a superare la linea di vantaggio proprio per la presenza di una linea difensiva molto efficace le difese hanno la ragione in questo momento pare di sì dobbiamo trovare devono trovare a livello di rugby board delle azioni come è stato fatto in passato tale da permettere un'ulteriore spettacolizzazione difendendo ovviamente la saluta dei giocatori assolutamente la sicurezza degli atleti in campo è la prima cosa una domanda che faccio un po' a tutti so già la tua risposta ma facciamola sapere anche agli spettatori ne sono sentite tante durante il periodo della quarantena e del lockdown le due che a me personalmente hanno fatto più ridere sono state rientriamo in campo parlo logicamente di giocare a rugby col touch ma la più incredibile e viene dall'Inghilterra facciamo una partita di rugby senza pacchetto senti pur di rientrare non riesco era talmente tanta la voglia di rientrare si può darsi ecco vedi io non riesco a sarò tradizionalista non riesco a vedere una partita di rugby senza la scrum senza 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 una mullo senza una rimessa laterale è una conseguenza azione senza una rack non riesco a vederla ecco quindi non lo so ci sarà un'altra cosa ma già ci sta qualcosa di simile non voglio non voglio non voglio c'è rugby no voglio dire ma nemmeno lo stesso rugby a 7 guarda lo stesso rugby 7 prevede alcuni punti d'incontro delle mini rack sicuramente le prevede quindi voglio dire pacchetto esiste il cosiddetto rugby league che già utilizza questi sistemi quindi voglio dire mi sembra un po ecco trovare è vero e pur vero che per darsi visibilità il rugby league per cercare spazi commerciali in un momento difficile come altri sport ha cercato questo momento infatti non si è fermato di giocare e di darsi di dare più visibilità però è anche vero che il rugby la rugby union è una cosa e il rugby a 13 un'altra è un'altra cosa sono due sport sono due cose diverse a proposito del discorso che facevamo prima del lockdown e della ripresa con gli allenamenti almeno per quanto riguarda il discorso in campagna ma credo ormai in tutta i posso dire tranquillamente in tutta Italia si sta ripartendo col discorso dei campi scuola un discorso dove si cerca non soltanto i club con i propri atleti ma anche si cerca una collaborazione con le scuole potrebbe essere anche questo un buon punto di partenza assolutamente sì io sono d'accordo purché ripeto si rispettino i protocolli e la sanificazione di tutta la struttura e quindi ci vuole un ulteriore impegno qualora non si fosse stato da parte della società e delle responsabilità dirette da parte dei dirigenti affinché tutto vada per il meglio senza tenere conto che un monitoraggio comunque necessario per evitare appunto situazioni di criticità voglio dire non per fare dei paragoni non mi permetterei mai però mi pare due atleti di altissimo livello del tennis sono stati trovati positivi uno addirittura stamattina e quindi voglio dire bisogna stare attenti bisogna prendere le precauzioni giuste parliamo di adulti e non di ragazzi sì è chiaro è tutto un altro livello è chiaro ed evidente quindi bisogna stare attenti allora nella misura in cui si riesce a rispettare il protocollo in tutte le sue fasi e nella misura in cui c'è la disponibilità da parte dei genitori soprattutto dei genitori è chiaro che stiamo parlando di ragazzi non ci sono difficoltà è giusto che si faccia è un'iniziativa lodevole e meritoria purché ripeto si rispettino i protocolli assolutamente raffaele veniamo un po' io dico sempre le dolenti note la nazionale è stato sospeso anche il 6 nazioni noi abbiamo due ci sono ancora dei match da recuperare noi abbiamo il match contro l'Inghilterra che avremmo dovuto giocare qua a Roma il 14 di marzo c'è ancora il match con l'Irlanda una nazionale che da X partite non diciamo quante non porta più risultati a 6 nazioni abbiamo riconfermato abbiamo esattamente 3 minuti quindi sarò abbastanza veloce abbiamo riconfermato il coach Franco Smith sappiamo che è già riconfermato per altri 4 anni quindi fino al 2024 diamogli fiducia diamo fiducia al suo staff ma la nazionale deve cominciare a portare qualche risultato anche al 6 nazioni diciamo che dal punto di vista tecnico Franco Smith è una delle migliori persone anche perché ha ottenuto degli ottimi risultati a tre viste a giocare di anni in Italia 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 quindi voglio dire quei problemi che presumibilmente abbiamo avuto con qualche altro tecnico straniero non ci dovrebbero essere il problema è capire i ruoli che noi abbiamo a disposizione per poter giocare ad alto livello purtroppo in alcuni ruoli siamo ancora deficitari è pur vero che dalle nostre cosiddette accademie sono uscite dei giocatori però non ancora ad altissimo livello che si possono buttare in campo e permettere di fare la differenza o comunque di reggere il campo ecco noi purtroppo abbiamo ancora questa cosa manca ancora sicuramente l'esperienza in campo internazionale assolutamente sicuramente voglio dire abbiamo cambiato diversi giocatori molti sono andati via non dimentichiamo che il capitale è andato via sappiamo di tre viti tra i dieci giocatori più forti del mondo Zanni la terza linea il flanker che se ne è andato lì ci sono limiti di età però abbiamo anche il ritiro di Badda la seconda linea e di cittadini il pilone destro è notizia dell'altro ieri ci dobbiamo preoccupare secondo te di tutti questi ritiri però bisogna comunque fare un salto di qualità soprattutto per quanto riguarda Zanni io mi preoccuperei un pochettino eh lo so Zanni il carisma Zanni ricordiamolo Zanni è stato un grandissimo giocatore Zanni è stato un grandissimo giocatore quattro mondiali quattordici sei nazioni MVP per tre volte man of the match eguagliare Zanni sarà difficile assolutamente è una delle perdite maggiori non ho cittadini è stato un po' sfortunato perché ha avuto diversi infortuni quindi voglio dire ci dispiace il ruolo di pilone la spalla il collo è sottoposto a diversi stress diciamo le articolazioni quindi voglio dire ma al di là di questo io voglio sperare appunto che dalle da queste famose franchigie da queste famose soprattutto da queste famose le stesse accademie che comunque ci sono ancora accademie accademie federali escono quei giocatori che ci fanno e che ci fanno fare solta di qualità in effetti voglio dire questo è chiaro con l'elezione di Bimond alla presidenza del del rugby mondiale è chiaro e noi politicamente l'abbiamo appoggiato non dovremmo temere fuoriuscite improvvise dal come qualcuno paventava forse qualche giornalista poco attento o comunque qualche giornalista in cerca di scopo la più eclatante non solo noi fuori dal sei nazioni ma vogliamo la Francia fuori dal sei nazioni là siamo proprio è diventata la barzelletta è diventata diciamo che questa è stata veramente non lo so la voglia con tutto il rispetto che posso avere per la Georgia squadra tosta ruvida però voglio dire tutto sommato un anno e mezzo fa è venuta qui si è presa le sue mazzate e si è tornata qualcuno potrebbe dire oggi oggi non lo sappiamo sappiamo il risultato di un anno fa già ci stiamo già ecco c'è una bella differenza noi fortunatamente con i mondiali ci siamo comunque con le due vittorie con il Canada e con l'altra squadra che adesso mi sfugge ci siamo qualificati il nostro lo abbiamo fatto il minimo come dire il minimo sindacale è stato raggiunto è stato fatto certo volevamo una vittoria statosferica ma contro Sudafrica penso che è un po' difficile visto che poi qualche problema l'ha avuto pure la stessa Inghilterra quindi ma gli stessi All Black insomma abbiamo visto tutti la partita davanti a Laga si sono messi così che tanto vi freghiamo in campo e l'hanno fatto diciamo che in effetti diciamo il Sudafrica ha vinto soprattutto per la forza e la consapevolezza la determinazione soprattutto no la determinazione e la forza di cambiare ha avuto a disposizione soprattutto nel pacchetto dei uomini di alto livello cioè praticamente hanno giocato quasi sempre le partite top 8 più 8 hanno giocato se non 8 7 se non 7 6 è riuscita a sostituire 7 persone o 6 persone della mischia proponendo dei giocatori dello stesso livello di chi è stato sostituito allora il tempo purtroppo è tiranno siamo siamo in chiusura con l'augurio che la nazionale riporti i risultati sperati nelle 6 nazioni quelle 2 3 partite che si vincevano sempre ma crediamoci sempre e facciamo il tifo per la nostra nazionale si devono ricominciare i campionati auguriamoci che vada tutto bene che si risolva questo problema della pandemia il più presto possibile io ringrazio tantissimo Raffaele ci siamo sentiti alle 11 stamattina diciamolo e sei tranquillamente venuto qui in trasmissione quindi grazie e ti aspetto poi nelle prossime puntate è un piacere Max De Falco Raffaele Scognamiglio vi danno tanti saluti ovali e vi danno appuntamento alla prossima arrivederci a tutti e sempre vive il rugby vive il rugby state me e vi danno